Ludo, purtroppo dobbiamo rimanere qui per 24 ore, quindi l'unica alternativa è dormire! Ora però non ci possiamo truccare. Ci possiamo truccare? No, 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 meglio dormire! Buonanotte! Buonanotte! Sveglia, sveglia, sveglia! Nostra mamma è... Oh, madonna, Luca! Avete capito che questo è un collegio? Non è un albergo! Non potete svegliarvi alle 10, alle 11, a che ora vi pare a voi? Ma chi sei? Chi sei tu? Questo è un collegio, caro! No, no, no! E voi dovete essere disciplinate! Presto! Chi... Andiamo! Andiamo, 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 andiamo! Tu! Non uscire fuori dal disegno, altrimenti zero! Ok, ma posso almeno colorare qua senza fare questo? No! Adesso dimmi tutte le tabelline dal 4 al 9 4 al 9 4, 8, 12, 16, 25, 24, 22, 36, 46, 40 Del 6! Veloce! Più veloce che puoi! 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 7! 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49... 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 Adesso! Dimmi la tabellina del 9 Conta fino a 20 1 2 3 4 5 6 Veloce! 7 8 9 10 11 12 16 12 Va bene, basta, basta! Ma guarda, ho tanto fame! Questa osuola non ci ha fatto niente di buono! Ma mamma ci prepara tante cose buone! I spaghetti, il riso, le penne col sugo, il riso col tonne... Le polpette con il sugo, il prosciutto, il panino... ma chi ce l'ha fatto fare a litigare? Perché abbiamo litigato? Guarda adesso dove ci troviamo, cavoletto di Bruxelles! Suora abbiamo fame! Suora! C'è almeno un po' di... dai! Chi sta urlando? Nessuno! Non voglio sentire urla, qui non ci sentono urla in questo collegio! Ci siamo capite? Sì! Ecco il pranzo! No! Suora, ma un po' di... C'è! Silenzio! Che schifo! Mangiate! Un formaggio fuso! Un formaggio fuso! Ma che schifo! Uuuuuh! 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 Che cazzo! Uuuuh! 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 Io provo a fermi una specie di panino, Ludo. Uuuuuh! Uuuuh! 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 Un freddo! Uuuuh! 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 Che esciva! Uuuuh! 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 mangiare no ma anche se non vuoi rimanere il digiuno te lo dico ma le carote ma non sono un coniglio la sto pure mangiando beh tu hai i dentini da coniglio voglio tornare a casa mi do vuoi tornare a casa tu è arrivato il momento di tagliare i capelli si 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 i capelli no si 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 stia lontana con quella gengia perché se no gli taglio io i capelli chi vuole tagliare per prima i capelli tu no 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 tu o tu lei no lei chi vuole per prima dipende signora quanto dobbiamo tagliare tutti i capelli perché qui nel collegio non si viene con i capelli lunghi avete capito rasati a zero o a caschetto ma guarda io ho i capelli corti no ce l'hai lunghi tu signorina dovete fare i capelli corti a caschetto sono lunghi anche i tuoi sono lunghi quindi chi viene per prima vieni tu vieni ok 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 no 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 Ludovica Meno male che era solo un sogno Hai sognato anche tu la stessa cosa Sì Io ho sognato che Oddio Che nostra mamma era una suora Che E anche io E la suora si stava tagliando Tutti i capelli Oddio mio Ok 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 Non è successo niente E mamma adesso dove sta? Sono passate le 24 ore Penso di sì È giusto? Sì Ludovica andiamo a vedere se nostra mamma è veramente Una mamma Oppure una suora No chiamiamola La devo chiamare suora o mamma? Mamma 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 Ma cosa urlate? Mamma Mamma Avete fatto la pace? Sì Una suora Ma che state dicendo? No No Nel senso che Le suore Vanno in chiesa E pregano Capito? E quindi? E quindi Fanno bene Perché bisogna pregare Questa punizione vi ha fatto riflettere sul vostro comportamento? Sì Ragazzi Noi vi salutiamo Perfetto E per chi non lo sapesse Io sono Aurora E tu sei? Io sono Ludovica E vabbè ragazzi Noi vi salutiamo Iscrivetevi E attivate la campanellina E lasciate Dattissimi Pollicione In su Fatelo eh Ciao Ciao Buonanotte Cos'hai visto Ludovica? Una suora Ludovica Ludovica Non fare scherzi Mamma mia Ludovica 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 Ma Vedi anche tu? Sì Oddio 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 Poi mi sono... Ah! Ah! Oh, come va! Ah! Oh, come va! Oh, come va! Mamma mia!